Oltre 60.000 servizi, di cui 6.650 di tipo secondario, cioè trasferimento di un paziente da un ospedale all'altro. Dei 60.000 servizi, i codici rossi sono stati oltre 13.000, quelli gialli 26.000 e quelli verdi 21.000. Questi alcuni dei dati diffusi dalla centrale del 118 di Arezzo, che si prepara ad affrontare la notte più impegnativa dell'anno, San Silvestro. Ma l'anno fu abbastanza pesante, devo dire. Quest'anno speriamo non si ripeta. Gli appelli credo vengano fatti dalla politica, ai sanitari eccetera, a tutti i cittadini di non eccedere nello sballo. Ci sono purtroppo chi comunque eccede e chi ha bisogno di noi, allora noi non dobbiamo farsi trovare impreparati. Noi abbiamo un modello abbastanza standardizzato. Ogni festa ha una sua gestione, cioè una festa in piazza eccetera, la sua ambulanza, le sue cose eccetera. Ma a noi non ci basta che ogni festa sia gestita ovunque da un mezzo di soccorso. Quindi potenziamo anche la presenza di personale in centrale e la presenza in più in città di un personale sanitario. perché si è visto anche gli altri anni si arriva sempre corti poi alla fine e per non arrivare troppo corti abbiamo aumentato ancora di più il dispositivo notturno soprattutto. Piazza Grande potrà contenere il triplo di persone rispetto a Piazza Sant'Agostino e quindi insomma qualche rischio in più forse ci può essere. Assolutamente sì, però anche Piazza Grande ha la sua ambulanza dedicata come c'è la Piazza Sant'Agostino. Ma in più mettiamo un dispositivo in più all'interno della città, all'interno del cordone della città, ma anche le altre piazze a Castiglione, a Bibbia eccetera. Ogni piazza ha la sua ambulanza, cioè questo ormai ce lo siamo dati come regola perché vediamo se no non ci riusciamo a reggere la botta. Anche perché oltre a questi qualcuno esagitato ci continuiamo ad avere le sue patologie. Non è che la gente non ha l'infarto l'ultimo dell'anno o l'emorragia cerebrale, quindi dobbiamo garantire il soccorso anche a loro. Non ha dieci scalmanati e basta, ma dobbiamo pensare anche a tutto il resto della popolazione. Quindi la festa ha il suo meccanismo di organizzazione, ma dobbiamo pensare ad allargare il cerchio perché poi alla fine, finita la festa, il problema si ripercorre sulle strade. Dal punto di vista dei vostri turni di copertura di queste festività, che ovviamente anche essendo operatori del 118 hanno tutto il diritto di farlo con le proprie famiglie, ma c'è una statistica ogni quanto un operatore del 118 può passare a casa il capodanno? Ma insomma, questa è una bellissima domanda, con la carenza di persone che abbiamo, credo che le feste, gli operatori del 118, sia medici o infermieri, la maggior parte li passano nel lavoro. Pochi sono gli eletti fortunati che vivono le feste a casa.